Bello ragazzi, bentornati sul mio canale Ok, siamo su Elion Dobbiamo catturare Ok Appuisto Ora sei in una missione di cattura Devi scovare, catturare e evacuare il nostro obiettivo Ah, anche evacuare Ok Qua cosa c'è? Ah, da qua si deve andare, ok Aha No Godo Morto? Morto Chi è che spara? Boh Non possiamo fare Sto arrivando, sto arrivando Oh 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 Cosa devo fare? Che è successo? Ah così? Oh eh oh Così facile era? Ok Ah no, andrà di là, scusate Nooo, ho sbagliato tantissimo Yeah C'è un altro? Vabbè sti cazzi Oh guarda qua Chi è? Altri? Ok e poi qua cosa c'è? Una stella Yataciano Bello però Ok andiamo Oh cacchio Cacchio Chi è? Vado Vado Porca vacca Qua cosa c'è? Niente Stop Madonna Altri? Ah ce ne sono un bel po' di nemici eh Boom Cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Ah ma Cosa c'è qua? Oi 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 Oh madonna quanti sono Altri? No Che cacchio Voilà E che cacchio Stella Yataciano Non so cosa serve Ampolla di detonite Coordinate nav Ferrite Ok Ok Vediamo cosa c'è da fare ancora Oh Sunsei Spionaggio Dai facciamolo Vamonos Non so raga Mi mancava giocare a warframe raga Veramente Ok Sui sei Oh no Ah ok Questo sarà lunghetto Ok Ah Quali misure di sicurezza Scusa Che è che mi ha visto No No Merda Adesso si che Avrà questo Eh Cosa mi apre Non l'ho capita io Ho disattivato l'allarme Beh Ah Ah Non c'è nessuno Dove sono? Sì, 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 sì Madonna, è questa? Ok Qua devo fare qualcosa? No Ok Facciamo prima questa che è da sola Chi è? C'è qualcuno qua? Eh, quanti sono? Aia Altri? Ah Vabbè, andiamo, andiamo, andiamo Oh, mamma, stavo per cagare Eh, sì, cagare Cagare Ecco Qua? La grata Ah Oh, madonna, e questi? E qui è che spara la mano? Madonna Cos'è sta roba? Quanti cazzo? Cosa c'è qua, scusa? Boh, non lo so Maria Anche qua si può andare Ah, è un Ok, dopo, dopo Andiamo a prendere la Dov'è la? Ricopro fallito Perché? No, come mai Ricopro fallito L'ho distrutto Cosa cazzo Cazzo no Forse devo agire al furtivo Dov'è, qua sopra? Ah! Oh! Oh! Hmm... Hmm... Okay. What the fuck? Come c'è riuscito? Come c'è? Come c'è riuscito a riuscito a riuscito a riuscito a riuscito a riuscire la data. Ah devo arrivare là sopra Dove sono finito Scusate un attimo Ok allora devo andare Scusate mi si era interrotto il microfono E uno di questi ha un buco in teoria Eccolo qua Ok Ah devo riuscire di là Ok No No Ah si Bam Scusate Ok Ok Ah cazzo No No è qua Oh cazzo Ah di qua Oh madonna Ok Ok Eh dove devo uscire Prova Ah di qua No non si può Ma scusa Ah ok No Ok di qua Ah 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 di qua Ma questo Ah di qua 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 Madonna Madonna Ah di qua Ah di qua Ah mi dice per singola roba Ok Ah E ora cosa ci manca su Mercurio? Questi due Intercettazione e poi assassinio Ma sapete che faccio anche questa raga? Dai facciamola E poi vi faccio come missione normale Cioè faccio un altro video per la missione finale Di Mercurio Questo è la... Ok Ok Ah madonna Oh no Devo fare... Ah devo farlo Oh no Cioè Tonna Ok Dove devo andare Eh ho capito ma... It's not easy eh Dai Ok 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 Quale? Quale? Questa? La B Che è qua Ok Qua è qua la C? Ok Qua sotto Questa Questa Qual è l'A? Ma come? Oh Conflitto Ma porca Eh la B No Ma conflitto chi? Dai 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 Eh prendiamo la D Chi è? Conflitto ma chi? Boh raga non capisco Torra è persa Eh vabbè Cazzo Dai siamo al 94 Ci sta Dai 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 Va bene fatto Ok Chi è? Dov'è? In che senso? Ah no estrazione estrazione E anche questa completata raga Ci manca l'ultima missione di mercurio Benissimo Molto bene Ma dov'è il mio? Ok Perfetto Easy Eh io che arma ho secondaria? Dovrei essere ripreso La mia no? Il Furis 21 Mi sa che è il massimo Non so se è il massimo Non credo no Ci sarebbe scritto massimo no? Mmm Questo è colpo singolo Giù Penso Ok Vabbè raga vi saluto E ci becchiamo Un prossimo episodio Bella